Se ti interessa acquistare i crediti FIFA scontati, clicca il link in descrizione. Ma bello a tutti ragazzi, eccoci qua tornati con un altro episodio del Road to Division 1. Nello scorso episodio eravamo finalmente approdati in Division 2. Sto registrando con un temporale fortissimo fuori e sta facendo venire giù anche le madonne. Quindi potrebbe esplodermi la corrente in casa da un momento all'altro. Quindi sto registrando in un momento bellissimo questo Road to Division 1. Vabbè dopo questa piccola parentesi. Siamo in Division 2, mi faccio sempre questo augurio prima di una nuova divisione. Speriamo che questa squadra tenga botta in questa nuova divisione. Che cazzo, state calmo. Non so se l'avete sentito ma un fulmine mi è caduto in giardino. Andiamoci a buttare in questa nuova divisione che tu ti dite che è tostissima. Vediamo un po' cosa ci propone. Iniziamo alla grandissima questa Division 2. Questo qui ci mette davanti una Lega 1 con tutti i giocatori overpower. Il trio d'attacco colombiano con il mio Jackson Martinez. Bene. Guarda che mi si è addormentato. Guarda che mi si è addormentato. Si è bloccato. Che cazzo hai visto? Una donna nuda. Cioè guardalo. È rimasto lì a passeggiare. È buona. È buona questa va. Mamma mia. Grandissima azione. Pareggiamo alla grandissima. Dalla bene in mezzo. Dalla bene. Non ci voglio credere. Dalla bene Varela. Rimorchio. Oddio. Sento un gol incredibile. Muriel. Doppiettona. Quello non è fallo vero arbitro? Quello non è fallo vero arbitro? Me l'ha spinto. Non è fallo quello vero? I miei hanno crashato. I miei hanno crashato. Lo sapevo che andava a finire così. Lo sapevo io. Quando lo devi proprio prendere gol. Che i tuoi non si controllano più. No. 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 Un borbo. Il gol più importante della tua vita. Tre cose incredibili sono successe nella mia difesa. E tre gol ho preso. Iniziamo benissimo la divisione 2. Ok. Adesso ci andiamo a giocare altre tre partite in questa divisione infernale. Speriamo di vincerne almeno qualcuno. Ragazzi ho sostituito cambiasso con Vila. Voglio vedere se ho questa squadra. Oddio aspetta no. No no. Non è possibile. Oh mio dio. C'ha un fottutissimo full legend sto bastardo. No no. Live on Twitch. Quindi può essere che mi sta anche trasmettendo in questo momento. Trasmetterà i miei bozzi in culo. Questo tirerà da tutte le parti di campo. Eccolo là. Come cazzo si fa? Ma come si può pretendere no? Pia te l'anculo! Pia te l'anculo! C'avrà il full legend ma il bug funziona pure con le leggende. Ma che ha fatto? Ma ha fatto una cazzo di crossline. Eh sì. Ci ha messo 37 anni. Ha fatto in tempo a ritirarsi dal calcio prima di tirare. Attenzione. Madonna Muriel. Se invece di fare la spaccata su una pannocchia tiravi. Oddio. Oddio. Oh mio dio. Che cazzo di gol di merda. Non ci credo. Il barbo fottutissimo rapinatore. Lo fa anche nella vita vera il rapinatore. Ma anche sul campo da gioco. Dai. Corri. Oddio. Oddio forse entra. Oddio forse entra. Oddio è strada. 3 a 1 all'ottantesimo. Quanto fottutissimo full legend. Sta quittando. Lo so che stai quittando al novantesimo. Col full legend quitti al novantaquattresimo. Abbiamo fatto i primi tre punti in questa divisione 2. Isperatissimi tre punti. Adesso ci andiamo a giocare altre due belle party dots in divisione 2. Ehi signori. E dopo aver battuto un full legend. Ecco il terzo avversario di oggi. E la maledettissima BPL. Però noi gli rompiamo il culo lo stesso. Vai. Vai Martinez. Martinez. Martinez non deludermi. Martinez. Mamma mia quadrato. È peccato che sia in caciottaro. Che te ne vai lungo. Oddio. Lascia partire una botta dentro. Non ci voglio credere. Oh mio Dio. Che cazzo di Saracac ha tirato. Cioè io. Ma. Cioè. Questi golden merda. Cioè stai 2 a 0 tranquillamente. Ma no. Perché il tuo portiere decide di farsi esplodere tutti quanti i neuroni. Alla velocità di una barbabietola. Maledetto. No. 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 Lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Io me lo sentivo fin dentro il culo. No. 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 Un corpo. Il gol più importante della tua vita. Oddio. Non ci credo. Non ci credo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. È finita. Oddio. L'abbiamo portata a casa. Le mie ascelle sudate piangono. Guardate quanto sono belle. Mamma quanto fanno schifo. Signori. Seconda vittoria. Nella terza partita di oggi. Adesso ci andiamo a giocare. L'ultima partita del giorno. Questa divisione 2. È veramente qualcosa di faticosissimo. Signori. Ultima partita del giorno. Dio santo. Questa divisione 2 non dà tregua. Chissà se la zota scureggia reggerà questa botta. Incredibile. Oh. Oh. Espelligli anche i familiari che si sono venuti a vedere la partita. Ma spegnigli il televisore a questi. Ma che è? Dai. L'hai data? Oddio. Passagli. Non ci credo. Mamma mia il barbo. Un fottuto carro armato come al solito. Tira giù Sergio Ramos. Bella. Bellissima. Mannaggia un pelo lunga. Sarà un pelo di figa. Vedi come correva Martinez. Oddio ha sbagliato? E pilo. No ma dico. Ha sbagliato. Oddio. Sì andiamo 2-0. Non ci credo. Approfittiamo di ogni minimo errore. Adesso l'importante è non deconcentrarsi e continuare a trapanargli il buco del culo. Oddio. Oddio ma Andanovic. No ma non pensavo potessero succedere queste cose su FIFA. L'ha veramente presa male. No. Porca puttana. Porca puttana. Non doveva farmelo questo all'ottantesimo. Oddio no. No. No come hai fatto. Muriel come hai potuto. Bravo. Bravo. No no no. Non è possibile. Non la devo chiudere io questa partita. No. 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 Via. No. Via. Sì. Oddio è finita. Non ci credo. Madonna ma non si può faticare così ogni volta. Signori ce l'abbiamo fatta. Tre vittorie su quattro in questa divisione 2. L'abbiamo iniziata veramente alla grande. Arrivata in divisione 2 questa serie è diventata qualcosa di lancinante. È veramente una faticata ad ogni partita. Non so se col prossimo episodio riusciremo a passare in divisione 1. Quindi ragazzi arriviamo a 10.000 likes per questo episodio e io nel prossimo episodio vi porterò un altro speciale di divisione. Così che sicuramente avrò più possibilità e più partite perché ne abbiamo a disposizione 6 in un episodio speciale. Quindi ragazzi a 10.000 likes episodio speciale. Vi ricordo come al solito di seguirmi sui social che vi metto qui in sovrimpressione. Dei link li trovate in descrizione. Vi ricordo la storiella di Barbo dello scorso episodio quindi attenti. Però per questo episodio è tutto. Sodime saluta bella. Martínez. Martínez sei passato. Martínez ma perché sempre sul tiro ti fai mettere il pisello in mezzo ai piedi.